È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Team of the Month continua con i migliori centrocampisti di dicembre. In grado di decidere un match con un'idea, un contrasto o un'invenzione. Sempre più spesso con un gol. Chiedere a Marek Amsic, che questo mese con tre reti ha superato Diego Maradona, diventando il primo marcatore della storia azzurra. E Napoli continua a godersi il primo posto in classifica. Prende la cosa centrale ancora Amsic con il sinistro Amsic! Miralem Pjanic è il faro e l'equilibratore della Juventus, tornata a un solo punto dalla vetta. Il mese della rimonta bianconera si spiega anche così. Dicembre speciale anche per Antonin Barak. Quattro reti per lui e due assist per i compagni. è uno dei segreti dell'Udinese che vince sempre. Ma il cieco non è l'unico protagonista nella perfetta mediana costruita da Massimo Oddo.